Alla borsa oggi si parla di archeologia e passato, un momento importante. Sì, io rappresento l'INRAP, che è l'istituto francese di archeologia preventiva, che labora in Francia su tutto il territorio per scaviare siti dell'antichità e del medioevo, per avere una idea del paesaggio antico sotto tutto il territorio. Quali sono le missioni specifiche dell'INRAP? Le missioni dell'INRAP si istantano fino alla diffusione al pubblico della conoscenza archeologica, perciò sono organizzate ogni anno numerose e diversificate operazioni di valorizzazione, spesso in collaborazione con i costruttori, apertura al pubblico dei canteri, mostre, pubblicazioni, produzione di multimedia e seminari.